Dal Tribunale di Pesero arriva un altro caso destinato a fare giurisprudenza sul territorio. Il Tribunale ha infatti respinto il ricorso di un medico che ha contestato la sospensione dalla professione combinatagli dall'Ordine dei Medici di Pesero Urbino in seguito al suo rifiuto di sottoporsi al vaccino anti-Covid dopo la guarigione da un'infezione dal virus. Si tratta della prima sentenza con questo esito nel territorio provinciale. Il medico in questione è una dottoressa di 58 anni dell'ospedale di Urbino. Si è ammalata di Covid-19 durante la prima ondata del 2020 e, una volta guarita, si è rifiutata di sottoporsi al siero anti-Covid scontrandosi però con le normative vigenti per l'esercizio della professione medica. A novembre 2021 è scattata la sospensione dell'Ordine dei Medici di Pesero Urbino ed è partito il braccio di ferro giudiziario. La dottoressa si è opposta a Ordine Asur sostenendo di aver sviluppato gli anticorpi necessari, di temere per i rischi della salute derivanti dal vaccino e che questo e l'annessa sospensione violino la Costituzione e la legge sulla privacy. Un ricorso che questa settimana è stato rigettato dal giudice Maurizio Paganelli che ha posto l'accento sul fatto che non è contestabile che la vaccinazione garantisca una copertura elevata dal ricovero in ospedale o dal decesso e che nel vaccino c'è un rapporto benefici-rischi accettabile in base alla ridotta incidenza di reazioni avverse, rigettate anche le presunte violazioni di diritto costituzionale. Soddisfazione per l'Ordine dei Medici Peseresi che accoglie così un precedente importante di fronte ad eventuali altri ricorsi contro sospensioni di medici Novax.